The New Stories. La tua informazione libera. Purtroppo, il suo decesso è stato immediato e i soccorsi non hanno potuto far nulla per salvarla. Si tratta di una studentessa universitaria di 32 anni, originaria di Santa Maria di Licodia, Catania. La polizia sta cercando di chiarire se si tratti di un tragico incidente o di un suicidio. Questo evento al Policlinico di Catania richiama alla mente un'altra tragedia simile avvenuta a Palermo un mese fa, quando una giovane dottoressa di 26 anni è morta cadendo dal settimo piano dell'ospedale civico il 6 marzo.